buongiorno sono domenico bianco funzionario commerciale della teleimpianti e oggi mi piacerebbe illustrarvi quelli che potrebbero essere i vantaggi derivanti da una scelta legata a un tipo di soluzione telefonica ip a una piattaforma telefonica ip uno dei vantaggi principali più tangibili è quello di avere una soluzione estremamente flessibile scalabile in particolar modo orientata verso aziende multisede quindi con sede con sedi sia nazionali che internazionali un altro aspetto molto importante è legato essenzialmente alla convergenza sempre più spinta del telefono fisso verso il mobile quindi lo smartphone diventa a tutti gli effetti un interno del sistema telefonico un terzo aspetto molto importante è legato all'aspetto puramente economico perché si ha una riduzione di costi e una maggiore economicità dovuta soprattutto a una semplicità di installazione legata a questo tipo di soluzione e anche a una maggiore autonomia nella configurazione delle varie funzionalità della piattaforma stessa per maggiori informazioni ed eventuali consulenze e vi invitiamo a visionare il nostro sito con i relativi contatti grazie